il perdono era stata allevata in una di quelle famiglie che vivono chiuse nel loro cerchio e sembrano essere lontano da tutto ignorano gli eventi politici anche se ne discorrono a tavola e i cambiamenti di governo sono per esse tanto e tanto mai lontani che ne parlano come se si trattasse di fatti storici quali la morte di luigi xiv o lo sbarco di napoleone i costumi mutano le mode si susseguono non ci se ne accorge quasi nella tranquilla famiglia dove si seguono sempre le usanze tradizionali e se accade qualcosa di scabroso nei dintorni lo scandalo muore sulla soglia di casa soltanto il padre e la madre una sera scambieranno due parole sull'argomento ma sottovoce la causa dei muri che hanno orecchie dappertutto il padre dice con discrezione ma è saputo di quella tremenda storia di casa Rival la madre risponde chi l'avrebbe mai immaginato è spaventoso i figli non sospettano nulla e giungono all'età in cui tocca a loro vivere con una benda sugli occhi e sulla mente senza conoscere il retroscena della vita senza sapere che se ne pensa come si parla e che non si parla come si agisce ignorando che bisogna vivere in guerra con tutti o almeno in pace armata senza capire che l'inzenuo è sempre ingannato il sincero è beffato il buono è maltrattato taluni giungono sino alla morte in questo accecamento di probità di lealtà di onore tanto integri che nulla può fargli aprire gli occhi allora disillusi senza sapere bene come barcollano smarriti disperati e muoiono convinti di essere stati il balocco di una eccezionale fatalità misere vittime di eventi funesti e di uomini particolarmente criminali i Savignol maritarono la loro figlia Berthe a 18 anni sposò un giovanotto di Parigi, Georges Baron, che faceva affare in borsa era un bel ragazzo, parlava bene, era provvisto di tutte le necessarie apparenze di probità ma dentro di sé si burlava un po' dei suoi suoceri antiquati che con gli amici chiamava i miei cari fossili era di buona famiglia e la ragazza era ricca la portò a vivere a Parigi diventò una delle provinciali parigina di cui esiste una razza numerosa ignorò la grande città, la società elegante, i piaceri, le usanze così come era rimasta ignorante della vita delle sue perfide e dei suoi misteri sempre chiusa in casa non conosceva altro che la sua strada e quando si avventurava in un altro quartiere ne pareva di fare un viaggio lontano in una città ignota ed estranea la sera diceva oggi ho attraversato i boulevard due o tre volte l'anno suo marito la portava a teatro erano feste il cui ricordo non si estingueva più di cui si riparlava in continuazione talvolta a tavola tre mesi dopo scoppiava improvvisamente a ridere esclamando ti ricordi quell'attore vestito da generale che faceva il verso al gallo le sue relazioni si limitavano a un paio di famiglie di parenti che per lei rappresentavano tutta l'umanità ne parlava facendo precedere il loro nome dall'articolo I i Martinet, i Michelin il marito viveva a modo suo rincasava quando gli pareva talvolta all'alba col pretesto degli affari non si preoccupava affatto sicuro che mai un sospetto avrebbe sfiorato quell'anima candida ma una mattina ella ricevette una lettera anonima rimase confusa essendo troppo retta per capire l'infamia delle denunce per disprezzare quella lettera il cui autore si diceva mosso dall'interesse per la sua felicità dall'odio del male dall'amore della verità le rivelava che da due anni il suo marito aveva un amante la signora Rousset una giovane vedova presso cui trascorreva tutte le serate non seppe fingere né dissimulare né spiare né giocare d'astuzia quando lui venne a pranzare gli gettò singhiozzando la lettera e scappò in camera sua lui ebbe il tempo di capire di prepararsi la risposta e andò a bussare alla porta della moglie lei aprì subito e non osava guardarlo lui sorrideva si sedette e la tirò sulle ginocchia e con voce tenera e un po' beffarda mia cara piccina la signora Rousset è davvero una mia amica da dieci anni e le voglio molto bene posso aggiungere che conosco altre venti famiglie di cui non ti ho mai parlato sapendo che la società le feste e le nuove conoscenze non sono di tuo gusto ma per finirla una volta per tutte con queste denunce infami ti prego di vestirti dopo mangiato e di venire con me a trovare questa giovane signora che diventerà tua amica ne sono certo Berte abbracciò di slancio il marito e per una di quelle curiosità femminili che una volta d'estate non si riaddormentano più non rifiutò di andare a conoscere quella sconosciuta che malgrado tutto le appariva un po' sospetta sentiva distinto che il pericolo quando è conosciuto è quasi evitato entrò in un grazioso appartamentino pieno di ninnoli messo su con gusto al quarto piano di una bella casa dopo cinque minuti di attesa in un salotto abbuiato da parati portiere e tende trappeggiate con grazia si aprì una porta e comparve una giovane donna molto brutta piccola pienotta stupida e sorridente mia moglie la signora julie russet la vedova mandò un gridolino di stupore e di gioia e si slanciò a mani tese non avrebbe mai sperato disse una simile fortuna sapendo che la signora baron non frequentava nessuno ma era tanto tanto felice voleva tanto bene a george diceva semplicemente george con fraterna familiarità ed aveva una voglia matta di conoscere la moglie e voler bene anche a lei dopo un mese le due nuove amiche non si lasciavano più si vedevano tutti i giorni spesso due volte al giorno in casa dell'una o dell'altra george non usciva quasi mai non aveva quasi più la scusa degli affari e diceva di adorare la sua poltrona quando si liberò un appartamento nell'edificio dove abitava la signora russet la signora baron si affrettò a prenderlo per essere più vicini e vedersi anche più spesso per due anni interi fu un'amicizia senza nubi un'amicizia del cuore e dell'anima piena affettuosa devota deliziosa Berthe non riusciva più a dire nulla senza pronunciare il nome di Julie che per lei rappresentava la perfezione era felice di una felicità completa calma e piacevole ma la signora russet si ammalò Berthe non la lasciò un momento faceva nottate si disperava anche il suo marito era a sgomento una mattina il medico finita la visita presi in disparte George e sua moglie per dire che giudicava gravissimo lo stato della loro amica appena se ne fu andato i due giovani prostrati si sedettero faccia a faccia ed un tratto scoppiarono in lacrime nella notte veglianano insieme accanto al letto e Berthe baciava in continuazione la malata mentre George ritto in fondo al letto la guardava in silenzio con ostinazione tenace il giorno seguente stava ancora pezzo ma verso sera disse di sentirsi meglio e obbligò i suoi amici a scendere a casa loro per cenare stavano seduti a tavola tristi tristi senza quasi toccar cibo quando la domestica consegnò una lettera a George lui l'aprì impallidì e alzandosi disse a sua moglie con aria strana aspettami devo uscire un momento torno fra dieci minuti mi raccomando non muoverti e scappò in camera sua a prendere il cappello Berthe attese tormentata da una nuova appreensione ma docile come sempre non volle risalire dall'amica prima che lui fosse tornato non si vedeva e a lei venne in mente di andare nella camera di lui a vedere se avesse preso i guanti ma qualcosa avrebbe indicato se fosse andato in qualche posto li vide subito accanto c'era un foglio spiegazzato lo riconobbe immediatamente per quello che era stato consegnato a George per la prima volta in vita sua fu assalita da una violenta tentazione di leggere di sapere la sua coscienza indignata si ribellava ma lo stimolo di una curiosità acuta e dolorosa le muoveva la mano prese il foglio l'aprì riconobbe subito la scrittura di Julie una scrittura tremolante amatita l'esse mio povero amico vieni ad abbracciarmi da solo sto per morire lei da prima non capì e rimace con me stupidita colpita soprattutto dal pensiero della morte poi all'improvviso il tu la colpì fu come un gran lampo che illuminasse tutta la sua vita facendole vedere tutta l'infame verità il loro tradimento la loro perfidia capì la lunga astuzia le occhiate la buona fede carpita la fiducia ingannata li divide faccia a faccia di sera seduti sotto il paralume a leggere lo stesso libro consultandosi con lo sguardo alla fine delle pagine il suo cuore gonfio di indignazione straziato dal dolore si sprofondò in una disperazione senza limiti udì un rumore di passi e fuggì a rinchiudersi in camera sua poco dopo suo marito la chiamò vieni presto la signora russè sta per morire Berti apparve sulla soglia e con le labbra tremanti andate voi da lei di me non ha bisogno lui la guardò con occhi di pazzo istupidito dal dolore e seguitò presto presto sta morendo Berti rispose preferireste che fossi io a morire forse allora lui capì e andò via tornando dall'amoribonda la pianse senza finzioni senza pudore indifferente al dolore della moglie che non gli rivolgeva più la parola non lo guardava più e viveva solitaria rinchiusa nel disgusto in una collera indignata pregando Dio dalla mattina alla sera eppure abitavano insieme mangiavano faccia a faccia muti e disperati a poco a poco lui si calmò ma lei non lo perdonava la vita seguitava per entrambi per un anno furono estranei l'uno all'altra come se non si fossero mai conosciuti Berti per poco non impazzì una mattina uscì all'alba e rincasò verso le otto portando fra le brazza un enorme mazzo di rose bianche candidissime fece dire a suo marito che voleva parlargli lui andò agitato e turbato usciamo insieme gli disse prendete questi fiori sono troppo pesanti per me lui prese il mazzo e seguì sua moglie li attendeva una carrozza che si avviò appena furono saliti si fermò davanti al cancello del cimitero allora Berti con gli occhi lacrimosi disse a George accompagnatemi alla sua tomba lui tremava senza capire e si avviò davanti a lei tenendo i fiori tra le braccia si fermò davanti a una lapide bianca indicandola in silenzio Berti gli tolse di mano il gran mazzo e ginocchiando si lo posò davanti alla tomba poi si chiuse in una perghiera ignota e supplice in piedi dietro lei il marito in balia dei ricordi piangeva lei si rialzò e gli tece le mani se vorrete saremo amici disse grazie Grazie a tutti